Ops a tutti, miei cari Upsine, Upsine, oggi sono qui, 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 solo per voi, per fare un nuovo video dove parlerò, quindi in questo video parlerò un po', di che video si tratta però, in questo video cercheremo insieme di risolvere e di trovare la soluzione alle parole proposte dall'applicazione Wordl. Mi sembra che l'originale si chiama così, scritto W-O-L-T-L-E. Io ho un'applicazione simile ma la funzione è la stessa, quindi adesso cercherò di spiegarvi un pochino come funziona prima di cominciare il video. In pratica tu hai questa parola da cinque, cinque lettere da scoprire e hai sei tentativi. Durante questi tentativi in base alle parole che scriverai prima, l'applicazione disegnerà quella lettera in nero, in nero. Se quella lettera non c'è nella parola, in giallo, giallo, giallo. Se c'è ma è messa nel posto sbagliato. E in verde se c'è ed è messa nel posto corretto. Ma adesso vedrete un po'. Quindi io direi indossate subito un paio di cubie auricolari, auricolari. Stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, 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 dormire. Quindi cosa farò adesso? Mi sposto un po' più in qua nella ripresa e attivo la registrazione del schermo. Ok. Adesso dovreste vedere qua sopra, qua sullo schermo, quello che vedo io dal cellulare. qui noi abbiamo questi sei spazi da cinque lettere e dobbiamo indovinare, indovinare questa parola misteriosa. Quindi spero di non essermi messo troppo troppo lato. Io direi di cominciare. Allora io una delle prime parole che uso sempre per cominciare è corsa, 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 corsa. Quindi una volta che tu hai scritto la tua parola clicchi invia e il gioco ti fa sapere com'è andata. Allora è andata più che bene. Allora abbiamo la lettera R che si trova al posto giusto. Mentre nella parola abbiamo le lettere O e A che ci sono ma sono messe nel posto sbagliato. Ok, ok. Quindi io adesso proverei a pensare una parola che abbia come seconda lettera A e come ultima O e come terza lettera R. Quindi invertisco le lettere O e A. Che parola possiamo utilizzare? Ok, ne ho una. P-A-R-T-O. Proviamo con questa parola. Parto. 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 Inviiamo, vediamo cosa ci dice. Ok, ok. Allora, come avevamo pensato noi, la A e la O andavano solo invertite. Quindi dobbiamo trovare cosa mettere come prima e come quarta lettera. Ok, ok. Quindi, 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 quindi. Cosa possiamo mettere? Ah, ma è venuta in mente una parola. M-A-R-M-O. Marmo. 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 Credite? Ci potrebbe stare, no? Adesso vediamo se ce la confermo oppure no. e via no non è neanche marmo ok mi è venuta subito in mente un'altra parola l-r-c-o largo 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 ma come sono triggerose queste parole quindi che dici che dici che dici proviamo eccola qua parola indovinata era largo 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 ci abbiamo messo più o meno quanto ci metto io normalmente perché se vedete da qua sopra potete vedere tutte le giocate che ho fatto la percentuale di vincite è sotto la distribuzione delle vincite o la distribuzione distribuzione delle vincite quindi direi passiamo ad una prossima parola siete pronti? pronti 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 io direi visto che è stata la parola precedente iniziamo di nuovo con largo così usiamo anche un po' di lettere via ok allora abbiamo una a e una r che però sono messe nel posto sbagliato ok 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 allora pensiamo una parola allora io direi mettiamo la r davanti e proviamo a indovinare una parola che abbia una r davanti tipo non lo so dobbiamo un attimino pensarci una parola che magari abbia la r davanti oppure la r come seconda o quarta lettera magari finisce per a che dici cerchiamo una parola che finisca per a tipo oppure come a per terza lettera qualcosa tipo tra 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 allora mi viene in mente un'altra parola questa qua tre non ha la a ma almeno scopriamo qualche lettera nuova e qualche vocale nuova e vediamo se la r come seconda lettera si trova nel posto giusto quindi tre 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 proviamo a vedere no però come avete visto c'è una e in terza lettera ok ok ci sta ci sta ci sta quindi allora potrebbe essere una parola che finisce per era quindi non lo so dobbiamo un attimino pensare una parola che finisce per era quindi metto tipo xx era dobbiamo un attimino pensare allora voi cosa dite cosa dite cosa dite cosa dite voi una parola che finisce per era tipo mi viene fiera per esempio però la i non c'è in questa parola perché in treni la i è in nero qui non è fiera però sai che vi dico io proverei fiera comunque anche se non c'è la i per vedere e invece no invece abbiamo appena scoperto che inizia per A questa lettera abbiamo appena scoperto che inizia per A perché la A perché la A non può stare in seconda e in quinta posizione quindi è per forza la prima quindi una parola che si saperà allora sai che vi dico potrebbe finire per ere una parola tipo avere da da avere 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 ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta prossima parola quindi direi cominciamo sempre da avere anche se è sconsigliato iniziare con una parola che ha più volte la stessa lettera dentro ma noi lo facciamo allora c'è una E alla fine però non c'è la A non c'è un'altra E non c'è la B non c'è la R ok quinti 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 che parola può essere perché ce ne sono così tante che non lo so non lo so non lo so direi quando è così di provare una parola che non c'entra niente per usare un po' di lettere per capire un po' che lettere ci sono però aspetta se metto feste sappiamo che la seconda E è sbagliata ma almeno vediamo se c'è la F la S e la T quindi feste ecco abbiamo appena scoperto che inizia per F ok 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 allora F E allora secondo me non so il mio sesto senso mi dice che in questa parola ci sono molte vocali una parola tipo fiore sappiamo che non è quella perché la R non c'è però qualcosa tipo fiore quindi fiore 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 Adesso, ok, inizia per FI, però non ha una O dopo, non ha un'altra E trovata, fiume, eccole che vi ho detto, fiume, 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 fiume. Prossima parola, e direi anche o l'ultima o la penultima, perché siamo già qua collegati da un pochino insieme. Però so che secondo me non vi state stancando, allora quindi iniziamo con fiume, è anche una bella parola così abbiamo un po' di lettere. Ecco, una bella parola nulla, non abbiamo trovato nulla, quindi non ha le lettere qua sopra indicate. Quindi, ritorno a una delle parole con cui inizio sempre, corsa, quella che ho iniziato al primo round. Per usare un po' di lettere che non ho usato. Ok, c'è una O e c'è una A, ma sono nel posto sbagliato e secondo me, di nuovo, vanno solo invertiti. Quindi, qualcosa che ha come seconda lettera una A e come ultima lettera una O. Quindi, pensiamo, pensiamo, cosa può essere? Qualcosa tipo patto, 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 proviamo. Bella situazione, da questo io capisco che inizia per tà e finisce per tò. Tipo, tanto. Ma voilà, ma come siamo bravi. Dai che ci sta, ci sta. Siamo andati benissimo. Però come vedete tutte, al quarto tentativo le stiamo indovinando. Ma non ce la gufiamo perché può capitare che questa non la indoviniamo. Quindi io vi dico, questa qua è la nostra ultima parola. Iniziamo con tanto. Vediamo cosa esce. Ok. Penultima lettera T e c'è una A vagante. Quindi ipotizziamo, finisca per tà. Una parola tipo resta, 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 resta. Vediamo. Ok, allora finisce per tà. E ha una E che secondo me è la terza lettera. Terza, terza, terza lettera. Quindi qualcosa che finisce per eta. XX eta, quindi. Voglio provare una cosa perché se quella A fosse per dire una A accentata, quindi una parola tipo pietà, la prende. Ma non ci credo. Ma non ci credo. Era pietà. Al terzo tentativo l'abbiamo indovinata. Siamo veramente bravi. Adesso però mi rimetto in posizione. Ho chiuso la nostra registrazione dello schermo del cellulare. Controlliamola un po'. Completa. Esatto, ce l'abbiamo completa. Ho chiuso il gioco. Quindi, cosa ne pensate? Secondo me è stato molto, molto, molto divertente. Spero solo adesso di essere centrato di nuovo. Ma non importa. Ma non importa. Ma non importa. Non importa. Non importa. Non importa. Non importa. Quindi io direi, co-coo, co-coo, adesso tocca a voi. Iscrivetevi al canale, se siete nuovi, per entrare a far parte della UPS community. E se siete dei maschietti, diventare i miei UPSini, mentre se siete delle femminocce, diventare i miei UPSini. Poi, senza perdere altro tempo, lascia un bel mi piace, qua sotto, se ti sei divertito o divertita, a giocare insieme a me. E commenta anche con tutto, tutto, tutto quello che ti passa per la testa. Il video di oggi, purtroppo, finisce qua. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente. Di qua. Una mia playlist. E qua. 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 Qua, 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 sullo schermo, il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate, va bene? Quindi ragazzi, un bacio. E noi ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. 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 Grazie.